Aider, Aider, vaffanculo! Aider, nazista carinziano! Quello che ti caccia è il popolo romano! Aider, nazista carinziano! Questo alberello è un po' la mascotte di questa manifestazione. Questa manifestazione nasce perché gli studenti di Roma hanno voluto dimostrare che su questa città che ha conosciuto le razzie del ghetto e le fosse ardiatine non può scorrere tutto sopra come se niente fosse. Pizzate, la tena è bella! Ehi, donno! Noi sappiamo che c'è stato uno scontro a livello europeo, un tentativo di... che c'è un vento nuovo in Europa che va chiaramente verso la direzione dell'affermazione dell'identità nazionale e religiosa di questo continente per il blocco totale dell'immigrazione e per l'affermazione della sovranità nazionale. Grazie a tutti.